Nell'iconografia del teatro greco le vedete sempre una di fianco all'altro, sono le due maschere, quella che ride e quella che piange. Ebbene, nel derby di domenica che è inaugurato il campionato di Serie A2, Forlì e Ravenna erano un po' come gli attori che devono indossare continuativamente, alternativamente, le due maschere. A volte ridevano, a volte piangevano, a volte ridevano, a volte piangevano. Poi la palacanestro, lo sapete, non ha il pareggio nel suo destino, una alla fine ha riso, una alla fine ha dovuto versare qualche lacrima. Di questo e di tanto altro parleremo a Panorama Basket. Sigla! Mi sveglio e sono le otto di domenica mattina, è già l'orario che mi dice che qualcosa è nato storto. Apro l'armadio e con la maglia e con la velpa e con la sciarpa, da anni ormai la vestizione è diventata sagra. Al cuore non si comanda, è vero neanche alle emozioni, io la scelta l'ho già fatta e sono già fuori ad attuarla. Se nel cinque mi cammino verso il campo di battaglia, che per altri può sembrare il palazzetto comunale. C'è tensione, c'è sudore, c'è che c'è da soffrire, da esultare, da saltare, disperarsi e ripartire, poi urlare. E poi urlare! E poi urlare! Ben ritrovati, buonasera, Panorama Basket si apre così con la prima volta che non ascoltate questa canzone ma che vedete quella che è effettivamente la sigla che ci accompagnerà per tutte le puntate di questa dodicesima stagione. La sigla realizzata da Deris Ulivi con la musica composta per noi di Panorama Basket dai Fly Sweet è questa la nostra colonna sonora di questo campionato. E dunque il mio grazie va assolutamente sia ai Fly Sweet con il loro panorama, sia a Deris Ulivi che ha realizzato questa bellissima sigla. Un grazie speciale a loro e un grazie speciale ancora più questa sera a Francesca Picari, grazie di essere con noi. Grazie a te Enrico, buonasera a tutti. Allora Francesca questa è la seconda puntata di Panorama Basket e il focus, l'avete visto, è tutto su di voi. Voi appassionati di palacanestro e voi tifosi, protagonisti della trasmissione e quest'anno protagonisti indiscussi anche della sigla. Anche della sigla esattamente, però protagonista della seconda puntata di Panorama Basket è sicuramente il derby che si è giocato domenica. E ne parleremo con i protagonisti del derby stesso, della partita stessa, a partire quindi dando il benvenuto al primo nostro ospite che è Massimo Cancellieri, allenatore del basket Ravenna. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi, buonasera a tutti. L'ha seduto a suo fianco, lui invece ne ha già giocati tanti di derby, anche Forlì-Ravenna, ne ha vinti, ne ha persi e sa benissimo che dopo ogni partita bisogna comunque sempre rilassarsi, in questo caso per reagire immediatamente è il neo capitano della palacanestro Forlì, Jacopo Giacchetti. Ciao Jacopo. Ciao, buonasera. Accanto a lui invece siede un altro capitano che di battaglie sul campo ne ha vissute veramente tantissime, ma soprattutto ovunque ed ora è finalmente approdato qui in Romagna, noi diamo il benvenuto a Giovanni Bruni dei Raggi Solari Sfaenza. Buonasera e benvenuto. Grazie. Ciao Giovanni, grazie di essere con noi, come voi siete con noi tutti martedì e quindi Francesca ricordiamo velocemente quello che è il nuovo numero di Panorama Basket da puntare ovviamente da salvare sul vostro smartphone per interagire durante la diretta. Eh sì, il numero lo devo ancora imparare a memoria, quindi lo leggerò, ma voi intanto salvatelo già nel telefonino è 334-60-91869. Perfetto, e voilà il pass dalle sielle, era una filastrocca con cui cercavano di farmi imparare il francese senza riuscirci alle scuole medie, perché, qual è, voilà che cosa, voilà Instagram, perché ovviamente non avete soltanto WhatsApp per stare in nostra compagnia, avete tanti tanti strumenti, tra cui ovviamente i social network e su Instagram anche noi tutte le settimane, compresa questa, noi cerchiamo di sentire la vostra opinione sui fatti della pallacanestro della settimana. Esattamente, quindi intanto vi invitiamo ad andare sulla nostra pagina Instagram e a seguirla per seguire poi tutti gli aggiornamenti che pubblicheremo durante la settimana. E oltre a questo trovate nelle nostre storie appunto il sondaggio di questa settimana che verte proprio sul derby. Quindi abbiamo cercato di non essere troppo banali, diciamo, nelle domande, perché il risultato è quello che è stato, quindi vi chiediamo semplicemente cosa è più urgente ritrovare per Forlì, secondo voi, se la forma di Rush è in doia oppure la leadership in regia. Esatto, sono temi questi che stanno già facendo discutere molti di voi, noi cerchiamo di capire cosa è importante dal vostro punto di vista dopo questa sconfitta, il sondaggio in chiave forlivese, ma avremo molto, molto da dire con coach cancellieri invece della ottima prestazione che ha fatto Ravenna in quelle del Palagalassi. Tutto questo però ricordando, Francesca, cosa è successo nell'intero panorama della giornata di campionato, quindi ti chiedo ovviamente di andare ovviamente a leggerci quanto ovviamente è successo tra sabato e domenica. Vediamone insieme. Sì Enrico, infatti la stagione 2018-2019 è iniziata e tutti i riflettori erano accesi sul derby di Forlì, di cui parleremo appunto tantissimo questa sera. Come sappiamo la vinta Ravenna, recuperando da un passivo di 11 punti nel finale grazie ai suoi giocatori italiani. E sono stati loro i grandi protagonisti della partita, così come lo sono stati per Monte Granaro, che soprattutto grazie a Serpilli e Bonaccini passa sul campo di Imola. Nelle altre partite, successi per le grandi favorite come Verona, Udine e Mantova, scendendo invece in Serie B riposava Rimini, la cui gara con Teramo è stata spostata al 6 novembre per l'impegno di Giorgio di Buonaventura ai mondiali di basket 3 contro 3 giocati in Cina e appena terminati. Prima vittoria per Cesena che negli ultimi 10 minuti mette la freccia e sorpassa Iesi. Bruscio invece la sconfitta di Faenza in casa della Sutor Monte Granaro. I marchigiani hanno la meglio con una bomba allo scadere dei tempi supplementari. Eh sì, partita veramente rocambolesca, quella dei raggi solari, se ne parleremo con Giovanni Bruni. Io vi ricordo invece quali sono gli appuntamenti del prossimo fine settimana. Sono appuntamenti tutti importanti a partire dalla Serie A2 dove Forlì anticiperà tutto il programma giocando a Montichiari contro Rosinuovi sabato alle 20.30. Poi c'è un altro derby per Ravenna in casa, in questo caso domenica con Ferrara, mentre Imola dovrà vedersela a Sansevero con una neopromossa d'assalto perché ha vinto la prima partita a Milano. In Serie B invece tutte impegnate domenica alle 18, Rimini-Ancona, Fabriano-Cesena, match di cartello così come di cartello e anche Faenza-100. Detto questo, iniziamo a entrare nel vivo della discussione e ovviamente iniziamo a parlare appunto della gara che con i fuochi d'artificio mi verrebbe da dire dava il benvenuto agli appassionati di basket domenica al Palagrassi, ovvero il derby tra Forlì e Ravenna. Allora, fuochi d'artificio dal punto di vista delle emozioni, dei continui ribaltamenti di fronte ci sono stati. Qualitativamente parlando, forse è una gara che ha risentito dell'essere la prima di questo campionato, quindi non d'altissimo profilo diciamo tecnico, però è anche vero che c'erano tantissimi fattori che facevano sì che questa partita fosse molto sentita, molto tesa anche da un certo punto di vista, non solo l'esordio e chiedo subito a Massimo Cancellieri il ricordo anche della vittoria di Forlì in Supercoppa. Conta quel che conta, ovvero sia poco dal punto di vista delle gare strettamente ufficiali, però diciamo in quell'occasione Forlì riuscì a vincere al Palacosta in maniera abbondante, ha contato anche nell'approccio psicologico al match dei tuoi ragazzi? Nell'approccio conta sempre tutto, ovviamente mi sembra di avere uno scuola, in quel momento eravamo poco pronti, non se ne è mai parlato e non l'abbiamo detto perché nel processo di ricostruzione di una squadra c'è bisogno di pensare a se stessi, è chiaro che dispiaceva perdere la prima partita ufficiale di fronte al proprio pubblico, in quell'occasione Forlì balisticamente fu molto aiutata appunto dalle percentuali, ma come vedi quello contava nell'approccio, noi abbiamo preso la Supercoppa come un primo stimolo importante e in questa secondo me abbiamo messo qualcosa di più, devo dire non penso che non abbiamo parlato troppo di quella partita perché poteva avere due valori, un valore ovviamente positivo nel senso di come parlavi tu della rivincita invece magari un valore negativo nel ricordarsi appunto la difficoltà nel giocare contro una squadra di questo valore, quindi l'abbiamo preparata come se fosse appunto la prima partita e onestamente di campionato e onestamente poi gli aspetti dell'agonismo e gli aspetti della rivalità vengono soprattutto tanto dai giocatori, cioè un allenatore può riuscire a motivare una squadra e quindi io spero ogni volta di farlo ma se il giocatore non ce l'ha dentro è molto complicato poi che ci sia quel qualcosa in più che noi abbiamo avuto soprattutto nell'ultimo quarto. Ecco, l'ultimo quarto ovviamente ha fatto la differenza in questa partita soprattutto negli ultimi cinque minuti con la rimonta di Ravenna che ha fatto un partita di 15 a 0 se ricordo bene nel finale di gara però io sia a cancellieri che a Jacopo Giacchetti chiedo la stessa cosa invece andando un po' a burbe condita ovvero sia l'approccio dal punto di vista tecnico coach, te l'ho chiesto anche a fine partita, si era parlato diffusamente di qualche problema difensivo di Ravenna invece la capacità nel primo quarto nel primo tempo dei giallorossi di difendere duro soprattutto sugli esterni e di non far correre Forlì diciamo ha dato l'impronta alla gara. Allora il fatto di non fare correre era onestamente un aspetto importante su cui abbiamo provato a prepararci e onestamente per gran parte della partita ci siamo riusciti, dipende nel non far correre l'avversario dipende anche da quanto l'avversario ti morde guardiamo il terzo quarto dove non siamo riusciti e quanto loro sono riusciti a mettere una grande pressione lì nei nostri esterni e quindi a sporcarci tutte le linee di passaggio, a sporcarci il gioco, a farci essere troppo basici e a cercarci poco e lì siamo andati in grande difficoltà. Secondo me abbiamo avuto i primi due quarti che ci hanno sorretto in quel momento di difficoltà e nell'ultimo quarto siamo rientrati in partita e il parziale di 15 a 0 secondo me è frutto di un lavoro dei suoi 40 minuti oltre ad aver messo quei tre tiri ovviamente importantissimi che ci hanno fatto rientrare. Siete tornati in partita anche in condizioni estreme ne parleremo era senza Thomas, senza Venuto nel finale però chiedo a Jacopo insomma ecco invece l'approccio di Forlì a ripensarci 48 ore dopo insomma al di là di quello che è successo nel finale di cui mi parlerai. Cosa avete patito all'inizio match? No sicuramente un po' la tensione, la tensione della prima partita dove abbiamo iniziato molto contratti, non eravamo la squadra del precampionato ma una squadra molto tesa dove all'inizio veramente abbiamo fatto fatica anche a fare le nostre cose semplici che ci hanno su cui abbiamo lavorato questi 40 giorni quindi poi dopo c'è stato un approccio al match dopo diversi minuti quindi non subito dalla palla a due quindi abbiamo dato sicuramente un po' di fiducia in più anche a Ravenna che poi sono stati molto bravi a metterci in difficoltà mettendo mani addosso quindi non rendendoci le cose facili poi dopo alla fine abbiamo fatto secondo me una grande reazione, una bella reazione dove abbiamo fatto un terzo quarto. Ripartendo dall'energia difensiva Sì da là, siamo ripartiti dalle nostre cose, da quello su cui lavoriamo ogni giorno quindi grande difesa e poi cercare di correre in attacco solo passarci la palla perché poi dopo alla fine è una squadra dove tutti possono far canestro, non abbiamo la stella che deve fare 40 punti e ci deve sorreggere. Infatti su questo Jacopo scusa se ti interrompo perché voglio argomentarla questa cosa abbastanza analiticamente con te, ti chiedo però questo ti faccio entrare tra virgolette nel nostro sondaggio nel senso quanto pesa comunque in questo momento avere due giocatori parlo di Claudio Ndoia e di Eric Rush che comunque di Riffo di Raffa hanno saltato parecchia preparazione Ndoia quasi tutta la preparazione e il precampionato e sono comunque due giocatori fondamentali. No sicuramente Claudio ha bisogno di ritmo partita ora, sta meglio con il collo e quindi ora sta mettendo nelle gambe un po' di allenamenti, sicuramente ha bisogno di un po' di tempo perché non è un click che dall'oggi al domani inizia a giocare e giochi alla grande. Poi lui è un giocatore di grande carattere, agonista, quindi poi quando ti inizia a mancare un po' la condizione la soffre ancora di più rispetto magari ad un altro. Eric è stato fermo al torneo giù di Caserta, aveva questo fastidio infiammazione, però anche lui secondo me ha perso un po' quel ritmo che aveva avuto nel precampionato, facendo delle buone partite. Quindi secondo me questo però non dobbiamo stare a guardare questo, dobbiamo stare a guardare che dopo un inizio contratto abbiamo fatto una grande reazione, siamo andati sopra, gli ultimi cinque minuti li abbiamo riguardati anche stamattina di squadra, ci sono stati otto attacchi consecutivi dove tra palle persi, tiri forzati, abbiamo aperto il contropiede e poi sono stati bravi loro a fare canestri importanti, due palle che ricordo dove ci siamo buttati in otto a metà campo, bomba dall'angolo, lì bastava toccarla e uno andava in contropiede. Un importantissimo di quelle lì Marino fa la tripla del sorpasso ad esempio, però chi è stato veramente fondamentale in questa partita l'abbiamo sentito subito a botta calda a fine match e ora vi proponiamo le sue parole, è Luigi Sergio. Sotto di 11 nel quarto quarto senza Thomas dalla metà dell'ultima frazione di gioco, Ravenna trova grande cuore, grande energia e riesce a portare a casa questo derby, un derby pazzesco Luigi. Sì sì, un derby difficile che ha visto tanti ribaltamenti di fronte, siamo partiti molto bene, metà terzo quarto, come hai detto due, eravamo in difficoltà, però siamo stati bravi a compattarci e a crederci fino alla fine, se ci credi alla fine può venire fortutto. Si era detto durante la pre-season che Ravenna aveva un po' di premi difensivamente, avevate subito molti punti, oggi proprio in difesa avete costruito la vittoria. Sì sì, sicuramente le prime uscite non ci piacevano perché spesso abbiamo subito 90 punti o anche di più, sicuramente ci serviva del tempo per lavorare, ci abbiamo lavorato su tanto, però sicuramente c'è ancora tanto da fare. Cosa vi dà questa vittoria all'esordio? Ti può dare un po' di convinzione in più nei tuoi mezzi, sicuramente hai lavorato già tanto fino adesso, devi continuare a fare quello che stai facendo e vediamo cosa succede. E questo era Luigi Sergi, uno dei match winner italiani del derby del Palagalassi, però Francesca adesso andiamo a salutare il primo dei partner di Panorama Basket. Sì, andiamo a salutare Romagna in fiera. Sabato 12, domenica 13 ottobre torna Forlì Animali in fiera, l'appuntamento per tutta la famiglia che insegna ad amare e rispettare i nostri amici attraverso percorsi didattici adatti a tutti. Con un unico ingresso venite a scoprire la bellezza e le abitudini di cani, gatti, cavalli, pappagalli, rettili, insetti e di tutti gli animali dell'aia romagnola. Vi aspettano la sesta edizione del Salone del Cavallo con oltre 80 magnifici esemplari e dimostrazioni di tante discipline equestri. L'esposizione mondiale felina, il raduno del cane lupo italiano, 2000 tartarughe e la nuova oasi in fiera. Un angolo di pace dove ritrovare l'ecosistema delle aree fluviali del nostro territorio. Scaricate i biglietti ridotti a 7 euro dal sito animaliinfiera.it e ricordate che i bambini fino a 12 anni entrano gratis. Benissimo, rieccoci. Allora chiedo subito alla regia di mostrarmi, sempre relativa al derby, la slide che abbiamo preparato con le chiavi di questa partita. Le analizziamo velocemente insieme. Eccoli qui, soprattutto, insomma, abbiamo detto derby italiano. Vedete nel quarto quarto, sia Forlì che Ravenna, 21 punti su 23 degli italiani per Ravenna, 10 punti su 13 degli italiani per Forlì. Pro coach, insomma, 21 punti su 23, dicevamo, senza Thomas, con Poz che non è stato incisivo in questa partita, l'hai vinta e credo che questo sia molto importante per te, l'hai vinta con il gruppo azzurro, per così dire, che poi è, costituisce, insomma, si diceva, l'avviene una squadra dipendente realizzativamente dai due americani, invece l'hanno vinta i tuoi ragazzi italiani. Allora, finora è successo un po', e spesso è successo sì, nel senso che per diversi motivi abbiamo sempre fatto affidamento sul gruppo. Io devo dire, che mi secco un po' dire italiani o australiani, secondo me, abbiamo un gruppo abbastanza compatto, dove anche i due appunto statunitensi sono già come gruppo, come personalità all'interno, è molto solido e sono molto inseriti, per cui penso che per noi sia abbastanza indifferente. Ecco, l'avevo già detto in un'altra intervista che di sicuro, e anche di questo la squadra è cosciente, quindi non ci nascondiamo, se diciamo che di sicuro spesso noi ci rifugiamo in Thomas perché è un giocatore che è vicino al canestro, è capace di creare, di fare un canestro, o di fare un tiro, anche se fosse un tiro sbagliato, è comunque un tiro più bilanciato. Tutti gli altri si passano la palla, tutti gli altri si cercano, quindi al di là di questo penso che siamo equilibrati nel modo di giocare. Qualche volta funziona, altre volte non funzionerà, ma questo non è un mio crucio. Secondo me, andando avanti, le volte che funzionerà saranno di più di quelle in cui non funzionerà. E così il gruppo si rende coeso, soprattutto dal punto di vista tecnico, e ognuno sa che può avere una responsabilità. Cioè mi piace il fatto che, a parte Sergio e Marino, hanno avuto due tiri decisivi messi. Magari la prossima volta mi auguro che toccherà qualcun altro. Questo significa distribuire responsabilità a cosa che puoi. Esatto. È una cosa invece, ma anche Chiumenti, infatti, hai fatto quattro punti fondamentali, e una chiave, Jacopo, che lì per lì non mi era balzata negli occhi, invece, riguardando le statistiche secondo me interessante, 17 punti di Ravenna da secondo tiro. Ecco, anche questo qui poi, alla fine, contro i vostri sei, non è poco. No, no, quello senz'altro. Alla fine noi, nell'ultimo quarto, poi quando ci siamo bloccati in attacco, anche in difesa, abbiamo iniziato un po' ad andare un po' in affanno, dove alla fine, se analizziamo tutta la partita difensiva, togliendo un po' quei canestri da tre alla fine, che possono entrare sì e no, li avevamo tenuti a 70 punti. Quindi è quello, quindi dalla parte difensiva, secondo me, sì, possiamo migliorare sui secondi tiri, rimbalzi, queste palle chiamate 50-50, dove uno si butta, la può prendere o no. Però fondamentale il coinvolgimento. Fondamentale il coinvolgimento. Un attacco dove abbiamo forzato dei tiri, abbiamo preso dei rischi nei passaggi, dove abbiamo perso due palloni, non abbiamo fatto girare la squadra, quindi non abbiamo fatto degli attacchi anche bilanciati, dove poi dopo magari sbagli il tiro, però sei bilanciato in difesa. In un paio di tiri forzati che abbiamo fatto, abbiamo preso due contropiedi. Secondo me questo vale sempre, ovviamente, per qualsiasi squadra, questo discorso che tu fai, però dal mio punto di vista ha maggior ragione per la folie di quest'anno, cioè una squadra che deve essere orchestrale, deve per forza essere un sistema, è stata costruita con gli uomini per questo scopo. No, no, questo assolutamente. Io alla fine, domenica sera, ero, non dico parolace, Amareggiato. Ero amareggiato. Oggi lo sono ancora di più, perché riguardando la partita, devo dire che per 25 minuti abbiamo fatto una palacanestro, dove sia in attacco che in difesa abbiamo fatto veramente, veramente bene, dove ho visto tante azioni, dove loro non riuscivano quasi a tirare, quindi ogni ricezione un metro oltre la posizione, ogni tiro marcato, contestato, sempre un corpo davanti, quindi devo dire che vanno aumentati quei minuti. Ci vuole più continuità ovviamente di quel tipo di palacanestro. Benissimo, abbiamo già fatto un'ampia panoramica sul derby, veramente ci ritorneremo, intanto diciamo a cavallo tra il primo e il secondo blocco della nostra trasmissione, iniziamo a parlare anche di quello che è successo in Serie B, dove Cesena ha vinto la prima partita del campionato in casa con Iesi, dove al momento c'è una sola squadra al comando, che è Ozzano, ma anche un po' a sorpresa, in virtù del fatto che poi Rimini riposava, e dove Faenza, che aveva vinto Giovanni all'esordio, è andato a giocare alla Bombonera di Montegranaro, campo che ricordo benissimo averlo vissuto da giornalista in altre occasioni, è veramente durissimo, anche affascinante da un certo punto di vista, ne è venuta fuori una partita frenetica, non lo so, descrivimela te, che partita è venuta fuori? Ma ci aspettavamo un ambiente caldo, poi si stava parlando della Sutor, quindi la vera squadra di Montegranaro, perché comunque i tifosi sono legati molto a questa società, e quindi si è dimostrata appunto una partita ostica, più che altro come ambiente, nel senso come ci aspettavamo, loro avevano questo gap da sottocanestro importante, nel senso che noi abbiamo sfruttato, e comunque ci ha portato a tanti vantaggi, allo stesso tempo poi, quando hanno messo quattro piccoli, abbiamo fatto fatica, loro hanno penetrato, insomma hanno capito questa cosa qua, e hanno rigirato un po' tutta la situazione. Col fatto che però l'avevi quasi vinta, parlo tu, perché hai fatto cinque punti finali nell'overtime, compreso quello che, insomma, aveva portato ad avere un vantaggio a pochissimi secondi dalla fine, poi ci ha pensato Villa, e... Sì, no, stavo riguardando. Ecco, stavi riguardando. Sì, purtroppo... Proprio questa azione stiamo mostrando. Sì, purtroppo non siamo stati bravi a capitalizzare una situazione favorevole, perché comunque ci siamo ritrovati due volte in vantaggio, prima a 24 secondi, poi a 5 secondi dalla fine, però poi hanno trovato questo canestro all'ultimo secondo che ha deciso la partita. Prude? Fa male perdere così? Sì, cioè, siamo comunque consapevoli che purtroppo la palla canestra è anche questo, nel bene e nel male, a volte la vince all'ultimo secondo, magari ci succede a noi domenica prossima, e a volte invece la perdono. Poi ritorneremo, ovviamente ti farò anche sentire le parole dell'allenatore, le conosci già, perché ve l'avrà detta anche negli spogliatori, ma è uscito pubblicamente con dichiarazioni da analizzare, quelle di Massimo Friso, però noi adesso ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo con voi, con Panorama Basket. Panorama Basket Ben ritrovati, seconda parte di Panorama Basket, che si apre anche in questo caso all'insegna di voi tifosi, che andate al palazzetto, come ci raccontano i FlySuite, che ci guardate in televisione, che soprattutto giocate con noi tutte le settimane. Eh sì, giocate a quello che vi piace tantissimo, ovvero la nostra schedina, la nostra schedina su Facebook, e questa volta siete stati veramente tantissimi, mi avete costretto Enrico a fare i conti fino a notte tarda, anche se io in realtà lo so perché lui fa tutti questi conti a quell'ora, è perché lui spera sempre di essere lui il vincitore. È vero, è vero, è vero, perché ci sono dei premi che sono eccezionali, che sono premi che offrono i nostri amici di Marco Evito, la macelleria e gastronomia, che ormai conoscete e trovate in Via Carossa 58 a Forlì, dove andare a comprare carne di ottima qualità, e non solo perché ci sono davvero tantissimi prodotti enogastronomici, gastronomici del nostro territorio, ma soprattutto ci sono Marco, Vito e i loro collaboratori che vi daranno tutti i consigli di cui avete bisogno per preparare le vostre cene e i vostri pranzi in compagnia. Ecco, nelle immagini direi che scorre tutto quello che vi può aspettare se andate a trovarli. Esattamente, allora Francesca andiamo a vedere, fare un po' la classifica, questa volta voglio cambiare un po' il copione, voglio dirti io, chi è che non ha vinto, ma che comunque è arrivato terzo, ed è Andrea Rizzi, comunque è bravissimo con 66 punti, ancora più bravo, ma non ha vinto neppure lui, Matteo Zama, che è arrivato secondo con 68 punti, quindi chi ha vinto? E quindi abbiamo un vincitore d'eccezione questa settimana, perché è la prima volta che gioca, e soprattutto vince subito, con la bellezza di 71 punti, è Antonello Rosario Filipponio. Bravissimo Antonello, o Antonello Rosario, giustamente, visto che ha un doppio nome, ovviamente, io sono andato a vedere da dove viene Antonello Rosario, viene da Campobasso, ha giocato comunque la nostra schedina, io non so se lui ci starà guardando in questo momento, spero di sì, perché non solo con Teleromagna, ma attraverso l'app di TR24, il web, si può vedere in diretta la nostra trasmissione, beh, Antonello, se ci stai guardando, mandaci la tua e-mail, così noi ti manderemo il coupon, con cui puoi ritirare comunque la tua vincita, oppure in qualche modo, insomma, dai, sì, vieni in Romagna e che la ritiri, dai. Ma sì, sì, noi gliela potremmo forse far recapitare, però, se lui venisse a trovarci qui in Romagna, sarebbe ancora meglio, vero? Ma con Panorana Basch, che può essere di tutto. Si può fare di tutto. E a proposito di Facebook, se andate sulla nostra pagina Facebook, in questo momento, troverete la domanda che vi poniamo questa settimana, perché ci piace coinvolgervi, ci piace sapere come la pensate, e a proposito di questo, abbiamo fatto un'altra domanda. Esatto, abbiamo già parlato un po' con i nostri ospiti, dei giocatori stranieri di Ravenna e di Forlì, se ne è parlato diffusamente durante questa settimana, non vi chiediamo principalmente su Forlì e Ravenna cosa ne pensate degli stranieri, vi chiediamo questo, qual è, secondo voi, la miglior coppia di giocatori stranieri del Girone Est del campionato di Serie A2? Quindi andate su Facebook. E diceci la vostra, sì, assolutamente. Perfetto, benissimo, fatelo subito, così dopo vi leggeremo anche, Francesca, ovviamente, quali sono le vostre risposte, e ne parleremo con gli ospiti. Yes, esattamente. Allora, continuiamo a discutere con gli altri, ti riprendiamo da il nostro Giovanni Bruni, Giovanni, te l'avevo detto, voglio farti ascoltare cosa ha detto Massimo Friso, avete perso di due, dopo un tempo supplementare, partita sempre punto a punto con tante emozioni, però Massimo Friso, insomma, ecco, sentiamolo cosa diceva. Ho fatto una partita vergognosa, questa è una difesa da retrocessione, se non cambiamo registro, correremo dei rischi serissimi. abbiamo difeso come peggio non si possa, uno contro uno non abbiamo mai tenuto niente, e lo faccio non per fare uno sfogo, ma non abbiamo mai avuto l'inerzia della partita, neanche quando eravamo cinque o sei punti sopra. Il nostro problema è che non abbiamo ancora capito che sudore, agonismo in Serie B prima, e poi viene il resto. Noi stasera abbiamo voluto fare un po' i fighetti, e abbiamo giocato col gatto col topo, loro bravi, cosa potevamo pensare? Che venissero qui, ci facessero fare la cavalcata delle Valkyrie, hanno giocato una palacanestro intensa, vigorosa, hanno trovato la serata buona di due giocatori che hanno segnato dei canestri difficili e complicati, ma la colpa è nostra, è che gli abbiamo dato coraggio. Le sconfitte devono servire, prima o poi doveva arrivare una velenosa, questa è velenosa, se non impariamo e non cambiamo mentalità faremo veramente fatica. Eccolo qui, il friso furioso mi verrebbe da dire, Giovanni tu sei il capitano di un gruppo, l'anno scorso Faenza ha fatto la sua migliore stagione in Serie B, ha rivoluzionato, ha ringiovanito tantissimo la squadra, tu hai anche un compito non solo di leadership tecniche in campo, ma anche, mi viene da dire, di leadership nello spogliatoio. Dopo queste parole, insomma, anche parlando, facendo finta che non parli soltanto ai tifosi manfredi, ma se avessi di fronte una platea di tuoi compagni di squadra, cosa diresti? No, sai, il coach giustamente ci ha strigliato, comunque l'ha fatto anche pubblicamente, perché da noi vuole una reazione immediata. Il nostro girone è un girone che non ti puoi permettere cali di concentrazione, abbiamo squadre squadre che comunque, anche se sulla carta, tecnicamente, sono un po' meno inferiori, però ci mettono quello che la garra, appunto, che poi può fare la differenza, come è successo domenica a Montegranaro. Quindi, domattina avremo un allenamento importante, quindi, ci prepariamo in questo modo per la partita di domenica contro Cento. È così, fra l'altro è una partita sentitissima, te lo preannunzo, dall'ambiente faentino. Sì, no, no, ho già avvertito un po' di sentore di questa cosa. ma noi bisogna essere bravi più che altro a trovare un po' quello che è il modo per accontentare il coach, insomma, che poi, secondo me, può essere... Che poi tu conosci, avendola avuta a Barcellona. Sì, ce l'ho già avuta a Barcellona, poi, comunque, sono due situazioni diverse, a Barcellona è un certo tipo di squadra, questa è una squadra, appunto, come hai ricordato a te, molto giovane e ha bisogno un po' di, appunto, essere stimolata e quindi, giustamente, a volte, magari, strigliate del genere possono essere salutari. Me lo dici tu, Giovanni, a tuo modo di vedere qual è un pregio tecnico e non solo e qual è ancora il principale difetto di questa faenza che deve colmare? Ma, sai, comunque, noi 96 punti li abbiamo fatti, il che vuol dire che offensivamente non ci poniamo limiti, diciamo. Sì. Sicuramente l'aspetto difensivo, come appunto ha detto il coach, è da rivedere, ma non è la prima volta perché comunque c'era stato sicuramente un miglioramento nella partita contro Porto Santerpidio rispetto alla preseason. Si vede che, appunto, sono tornati un po' i fantasmi delle prime amichevoli e ci siamo ritrovati a subirne il 98 che sono effettivamente un'enormità se vuoi fare comunque un salto di qualità o un campionato diciamo tranquillo. Assolutamente, sì. Poi continueremo a parlare con te di tante altre cose, non solo della squadra, ma anche di te, insomma, in questo tuo ritorno in Romagna, eri stato a Rimini nel 2011-2012, hai sfiorato di un nulla forlì, se non sbaglio. Sì, era il momento che stavo. No, dimmelo adesso, dai. Era proprio la stagione, la prima stagione di questa società di Forlì. Sì, 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 no, e parlai a lungo con il coach di allora. Che era Gigi Garelli. Sì, Gigi Garelli, sì. E niente, poi alla fine avevo la mia compagna che stava per partorire. non me la sentì di lasciare Cecena che comunque è la società dove ho meditato di più o meno. Però, sai, sono scelte. Poi loro vissero sia la Coppa Italia che il campionato, quindi ripensarci magari poteva essere una scelta importante, ma è andata così. Comunque ora sono tornato. che ormai non ci sei, sei ancora qui. Assolutamente, bene. Ascolta, Francesca, diamo un po' di spazio a voi da casa con alcune vostre domande ai nostri ospiti. Sì, Enrico, partiamo con una considerazione. Da tifoso Ravennate penso che dopo la partita di Supercoppa Forlì abbia sottovalutato Ravenna che nelle ultime settimane è cresciuta molto, soprattutto in difesa, grazie sicuramente al lavoro di coach e cancellieri. A un certo punto l'inerzia della partita era completamente a favore di Forlì per meriti suoi e non solo, ma grazie alla tenacia e agli italiani siamo riusciti a ribaltarla e adesso sotto con Ferrara saluti da Maurino da Comacchio. Ringraziamo Mauro da Comacchio, bene che ci guardano anche da Comacchio, chiedo un attimo soltanto a Jacopo anche se immagino già la risposta, sottovalutare Ravenna però forse non credo sia mai passato nell'anticamera del vostro cervello, no? psicologicamente se pensi che... No, assolutamente, anche perché quella partita l'avevamo presa un po' con le molle perché sì, la Supercoppa ci tenevamo sicuramente a far bene però era due settimane di lavoro neanche, quindi avevamo pensavamo più a caricare in vista della stagione piuttosto che direttamente alla partita Comunque nel messaggio si sottolinea anche il lavoro di coach cancelliere a cui chiedo una cosa poi ridò la parola a Francesca abbiamo parlato di condizioni fisiche di alcuni giocatori bianco-rossi però voi eravate senza Michi Urcatam ti chiedo a proposito che credo che interessi a chi ci segue da casa qual è la sua condizione? Riprenderà a lavorare in palestra con il gruppo? Va verso il ritorno? Dimmi un po'. Ha ripreso a lavorare nel basket gradualmente questa settimana sarà decisiva per vedere se può già giocare domenica o meno comunque le sue condizioni sono migliorate anche sorprendentemente in maniera abbastanza rapida rispetto a quello che si pensava all'inizio per cui un ottimo lavoro anche dello staff medico siamo riusciti a rimetterli in piedi abbastanza presto adesso toccherà a noi farlo rientrare con il feeling del gioco Certo, assolutamente Francesca, ancora? Per coach Cancellieri ma se la lasciavano andare cosa avrebbe fatto a Thomas dopo il tecnico? Credo che non avrebbe visto la fine del fantastico derby vinto meglio così, no? Un grazie anche a Jacopo per aver fatto fallo sul tiro da 4 Alex D'Alfonsina Eh, vabbè un grazie ironico ovviamente quello di Alex tifoso giallorosso io poi dalla parola al coach aggiungo un attimo una cosa peccato non avere l'immagine di coach Cancellieri che ghermisce brandisce una sedia l'avrei messa mi permette coach di fianco la foto di Emiliano Mondonico celeberrima e l'avrei fatta vedere peccato che non abbiamo quella immagine però insomma ti hanno dovuto trattenere a forza ce l'avevi più con Thomas o più con gli arbitri? No, no, no abbiamo già fatto questa domanda in quel momento l'avevo tenuto anche magari qualcuno avrà pensato troppo a lungo perché comunque eravamo sotto di 11 però con 4 falli e il modo di giocare di Thomas io dovevo gestirlo affinché almeno facesse una parte di quarto quarto e uscire con un tecnico diciamo che era la scelta se non la peggiore una delle peggiori nella frenesia della partita nel momento io che sono abbastanza focoso diciamo così ecco se qualcuno è uscito quindi stavo per fare qualcosa di cui mi sarei pentito ovviamente come schier tifoso perché Frametto ma c'è una bella differenza e non avrebbe gradito anche se avrebbe capito il momento comunque se qualcuno è immortalato cancellieri con la sedia ci faccia avere la foto perché insomma la teniamo segretamente noi due non è vero mi auguro di non tanto l'hanno vista tutti quindi Francesca un'altra considerazione da Rick da Ravenna grande partita con un arbitraggio non all'altezza ma pur sempre un derby vinto da Ravenna grazie alla tenuta mentale un Sergio sorprendente e un chiumenti decisivo al momento giusto Forlì mi è sembrata un po' troppo Marini dipendente e con un Watson a corrente alternata che sul più 11 ha pensato di avere la partita in tasca complimenti a coach Cancellieri che all'esordio è già entrato nel cuore dei tifosi ovviamente Sergio comunque mi permetto di rispondere un attimo io a questo messaggio perché Sergio è stato anche un giocatore che ho visto molto da vicino in passato avendo militato a Forlì nel 2013 2014 scherzosamente lo chiamavamo Sergio Pazzia perché ci sono stati dei momenti delle partite una la ricordo distintamente a Imola con l'Andrea Costa vinta tra l'altro con un buzzer beater di saccaggi da metà campo in cui Sergio tra virgolette letteralmente impazzì e fece cose quasi da NBA e insomma poi non va assolutamente mai battezzato vado da Jacopo però in relazione a questo messaggio perché prima di tutto vi aggiorno sul sondaggio Instagram il 74% di voi dice che in questo momento è più urgente per Forlì recuperare le condizioni fisiche di Ndoia e di Eric Rush però hanno toccato il tema Mo Watson allora te sei compagno di reparto di Mo Watson giocate in alternanza giocate molto anche assieme ti chiedo sta vivendo diciamo un approccio a questo campionato non semplice ecco viene da da un'altra realtà quindi viene da una realtà diversa quindi ha bisogno un po' di di adattarsi a questo campionato un campionato dove difficilmente vai a finire al ferro senza trovare almeno due o tre avversari davanti dove c'è sempre grandi letture vengono preparate molto bene le partite quindi non è semplice subito però è un ragazzo super disponibile che lavora tantissimo si sbatte ha gran voglia di imparare ha voglia di imparare addirittura già la lingua quindi vuole imparare l'italiano cerca di parlare già in italiano anche durante gli schemi e quindi devo dire che da questo punto di vista è un ragazzo un ragazzo super ovviamente cioè ha bisogno di un po' di tempo per capire un attimo come come poter aiutare tutti cosa gli chiedete voi cosa gli chiede il coach dell'agnello mi ha detto gli chiediamo anche un po' più di iniziativa personale forse un po' qualche volta qualche tiro da fuori anche perché deve provare ad aprire un po' la scatola oltre che innescare i compagni Sì ma alla fine noi siamo una squadra che secondo me in attacco quando ci passiamo la palla riusciamo sempre a trovare un tiro un tiro aperto per tutti ovviamente ci aspettiamo anche da parte sua come l'ha dimostrato a tratti grandi penetrazioni scarichi dove riesce quasi sempre a battere l'uomo perché è molto veloce nell'uno contro uno poi ha un buon tiro da tre quindi è un giocatore completo c'è solo bisogno un attimo magari di capire meglio un po' il campionato Perfetto grazie Jacopo allora Francesca adesso ci prendiamo un brevissimo velocissimo break dove andiamo? Andiamo a salutare altri amici parlo di Arreda Metallici Entra in un mondo di idee e soluzioni pensate per la comodità e la funzionalità del tuo ufficio del tuo esercizio commerciale e della tua casa è il mondo di Arreda Metallici che da 30 anni opera a Forlì con professionalità e attenzione alle esigenze dei suoi clienti Arreda Metallici progetta realizza distribuisce e posa direttamente in loco sistemi componibili per aziende magazzini negozi uffici scuole e biblioteche se cerchi una soluzione pratica ed efficiente la trovi tra una vasta scelta di scaffalature banchi vetrine cabine armadio librerie supporti espositivi adattabili a ogni spazio classificatori stender panche e spogliatoi per palestre Arreda Metallici in via Gorizia 222 224 a Forlì contattala gratuitamente senza impegno il suo personale specializzato sa come aiutarti benissimo rieccoci in onda allora io davo una sbirciatina vero Francesca alle vostre risposte sulla nostra domanda a Facebook grazie perché state rispondendo in tanti esatto le risposte sono tante diciamo che Enrico c'è chi fa dell'ironia dicendo non quelli di Forlì o addirittura il commento ironico Watson e Rush però diciamo che per la maggiore vengono citati Beverly e Cromer di Udine e quelli di Mantova ecco Beverly e Cromer di Udine obiettivamente sì dal punto di vista dell'atletismo Beverly sicuramente un signor giocatore l'hai visto anche tu Jacopo dal vivo questi due giocatori contro Udine nelle mezze di Supercop beh speriamo che invece quelli di Forlì sappiano diciamo crescere costantemente perché poi dopo io lo dico ovviamente Watson non l'imparo anch'io a scoprire a conoscere prima non avevo minimamente idea e di che tipo di giocatore fosse beh Eric Rush è una certezza del campionato italiano e secondo me come collante come giocatore un po' a tutto campo che sa ricoprire più ruoli vedrete che sarà un giocatore che può essere davvero davvero un fattore vado però da coach cancellieri e chiedo questo invece la scelta di non far partire Poz in quintetto nel derby beh ogni partita abbiamo usato un quintetto diverso sì è vero quindi è una consuetudine lo si fa in base a cosa decidiamo di giocare inizio partita lo si fa in base anche agli avversari quindi Poz spesso è partito seduto Thomas spesso è partito seduto a volte sono partiti insieme il fatto che ci mancasse Mick in questo ultimo mese è anche stato un oggetto di riflessione appunto sui quintetti ma mi piacerebbe continuare su questa falsariga non sono un grande amante non penso che il quintetto sia il premio della carriera di qualcuno o dell'allenarsi bene o di essere un bravo giocatore penso che giocare i minuti importanti sia il premio e il riconoscimento che un allenatore possa dare a un giocatore quindi mi concentro più sull'ultimo quarto invece che del primo assolutamente mi trovo veramente in sintonia da questo punto di vista però Francesca c'era il tuo collega che ha detto una cosa diversa ma ecco questa era la risposta sul discorso soprattutto guarda 30 secondi 30 soprattutto sul discorso che insomma non deve essere un mantra e non deve essere soprattutto diciamo il quintetto base come giustamente hai detto tu dal mio punto di vista insomma una sorta di premio alla carriera o premio all'aspettativa che ho su di te ecco ovviamente va guadagnato in base alle situazioni tecniche e tattiche si può anche cambiare opinione cioè adattarsi scusa non cambiare opinione adattarsi anche agli avversari e poi dopo l'importante alla fine si dice che sono sempre i quintetti che chiudono le partite non tanto quelle che le iniziano Francesca però io lascio la parola a te perché torna 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 una consuetudine di panorama eh sì stiamo parlando della top 5 Romagna perché anche quest'anno cominciamo a stilare il nostro quintetto ideale e come anno scorso alla fine della stagione il giocatore che sarà stato più volte presente nel nostro quintetto ideale verrà premiato con il trofeo MVP Panorama Basket vero Enrico? esattamente sì allora facciamo un po' il punto di chi di chi è finito nella nostra classifica vedete la slide e diciamo dei giocatori nel quintetto ideale di questa settimana non poteva non esserci ovviamente Luigi Sergio del Basket Ravenna con 13 dei suoi 16 punti totali realizzati tutti nel secondo tempo e poi nella vittoria dei Tigers Cesene invece sono stati fondamentali Andrea Scanzi con 14 punti e 6 rimbalzi e Francesco Papa che ha sbagliato un solo tiro dal campo catturando ben 13 rimbalzi eh sì e poi nonostante la sconfitta delle loro squadre meritano però il quintetto ideale anche Pierpaolo Marini di Forlì con i suoi 20 punti è una prova di grande energia e il nostro ospite Giovanni Bruni che nel supplementare aveva condotto i raggi solari a sognare la vittoria a Montegranaro poi purtroppo sfumata esattamente ecco qui questo è il nostro primo quintetto però vi dico un'altra cosa non daremo solo questo premio Francesca daremo un altro premio che io così ancora non l'ho battezzato ufficialmente ma lo chiamerei Domenica Bestiale a quello che noi che voi state vedendo già sulla nostra pagina Instagram ovvero sia tutte le settimane noi vi facciamo un sondaggio su quelli che secondo noi possono essere i due potenziali MVP di giornata voi votate e noi ci teniamo il conto finora i due MVP di giornata sono stato Gabriele Rossi deleghe Tano Scirea perché questo tipo di sondaggio riguarda anche la serie C Gold alla prima giornata e Luigi Sergio alla seconda e noi daremo un premio anche a chi vince questo tipo di concorso che verte tutto su Instagram io però vado da Giovanni Giovanni torno un attimo da te perché insomma alcune curiosità ancora qua ne parleremo anche nel terzo blocco della nostra trasmissione le ho da togliermi ti ho chiesto appunto quali erano un po' i pregi di questo gruppo così giovane i difetti potenziali di questo gruppo che diciamo un po' le dipendenze tue di Massimo Friso mi viene da dire anche un po' le tue dipendenze io ti chiedo insomma fa inizia la tredicesima squadra in cui hai militato nella tua carriera tanti anni a Cecine ma insomma ce ne sono tantissime di società in cui sei stato insomma quali sono anche le tue aspettative personali di questa stagione ma innanzitutto ti ringrazio per averle contate perché non l'avevo mai fatto io sì che mi hai dato un'informazione ci sono contate oggi pomeriggio no no ma anche che te li ricordi tu no no vabbè dove sì magari il numero non avevo preso in considerazione allora per questa stagione fare sicuramente il meglio possibile nel senso che tanti giocatori sono alla prima vera esperienza da protagonisti in una categoria che sta sempre diventando più importante perché comunque con meno squadre in a due tanti giocatori scendono di categoria e quindi si alza il livello e quindi che migliorino e che quindi portino risultati importanti in una piazza come quella di Faenza che merita palcoscenici insomma di livello nazionale importanti ecco insomma poi Giovanni tu insomma Faenza non ha come obiettivo la promozione la tua promozione è sfiorata tante volte o Megna e tutto così hai abituato a giocare in squadre comunque sono sempre state lì nella lotta di vertice ecco quest'anno calarsi anche in una realtà che prima di tutto l'obiettivo è non soffrire cosa vuol dire sì l'anno scorso a Roma era un po' simile forse la situazione sì diciamo ecco questo è il 2.0 perché l'anno scorso erano tutti esordienti essendo una squadra andir 18 con due senior poi uno è andato via a gennaio quindi abbiamo raggiunto i playoff contro ogni pronostico quindi per me è stata una soddisfazione enorme quest'anno sì appunto non è una squadra del 18 però comunque l'età media è veramente bassa e molto probabilmente l'anno scorso mi servirà per cercare di di trasmettere al gruppo quelli che sono i principi necessari per per poter fare una stagione quantomeno di livello per per la piazza che appunto è faenza e poter far sì che poi qualcuno di questi ragazzi trovi un po' di consacrazione oppure si mette in vetrina per poter soliticare il palato di squadre di serie a due sì vabbè queste poi sono considerazioni che ogni ogni giocatore deve fare per se stesso noi siamo una squadra e quindi conta il risultato assolutamente sì Francesca prima della pausa dopo il secondo blocco di Panorana Basket un altro paio di domande allora una domanda per Jacopo ma perché alla fine quando Ravenna ci ha fatto il break ed eravamo in confusione il coach non ha chiamato il time out cosa fa? Come valli? va bene a questo è subito scatenato sai benissimo anche tu Jacopo dopo il suo figlio a Forlì si mancherebbe sì ormai dopo dopo un anno conosco l'ambiente però giustamente i tifosi ci tenevano molto noi per primi e quindi siamo tutti arrabbiati quindi capisco capisco tutta la rabbia che c'è quindi già tutti i giocatori da cambiare allenatore incapace tutte robe varie però chiedo veramente di di darci fiducia di darci fiducia perché questo gruppo secondo me anche rispetto allo scorso anno ha qualcosa in più è stata costruita in maniera diversa è stata costruita una squadra molto più fisica e devo dire che quando giochiamo la nostra pallacanestro è difficile per tutti anche andare a tirare non solo a segnare perché veramente riusciamo a mettere grande intensità ovviamente l'abbiamo messo per 20 minuti 25 non sono bastati perché abbiamo incontrato un'ottima squadra preparata che sicuramente farà farà molto bene in questo campionato quindi devo dire che di darci un po' di fiducia di avere un po' un po' di pazienza e questa squadra secondo me ha tutte le carte carte in regola per fare un campionato importante senza nascondere ma soprattutto dai non iniziamo con l'umoralità tutti i fenomeni prima tutti i bidoni dopo dopo una giornata di campionato insomma diamo il tempo di valutare poi dopo ognuno ovviamente trarrà le proprie conclusioni non alla fine del campionato possiamo trarre un po' prima cambiare un po' il giudizio oppure ritornare sui giudizi di partenza insomma è un campionato lunghissimo e direi le parole di Jacopo Francesca ci portano diritti verso una piccola pausa di riflessione però ritorniamo con tantissime cose e con qualcosa di particolare anche per il nostro coach canseglieri a tra poco vedere Pasini che canta è una bruttissima cosa per voi da casa ma è splendida Enrico è splendida dai dai però sai non so trattenermi in queste circostanze detto questo siamo di nuovo qui al centro di te Francesca perché appunto al di là del Pasini canterino come sapete i flyers parlano della passione vostra dei tifosi e quindi noi con la passione tifo abbiamo voluto costruire qualcosa un contest eh sì infatti ci piacerebbe che ci inviaste le vostre foto che vi rappresentano in un momento in cui magari fate il vostro tifo per la vostra squadra del cuore o momenti divertenti o di tensione e momenti di trasferte o quant'altro veramente qualcosa qualsiasi cosa che riguardi voi e la vostra passione per il basket avremo piacere che ce le mandaste questo perché perché noi queste foto poi le pubblicheremo nei nostri social e poi ogni mese cosa faremo Enrico? ogni mese noi eleggeremo la foto più originale più simpatica più carica di pathos insomma che esprima maggiormente al nostro insindacabile giudizio la passione di voi tifosi le eleggeremo e la premieremo adesso ancora stiamo un po' sul vago sul premi ma non perché non lo sappiamo ma perché vogliamo fare una bella sorpresa prima di tutto vi vogliamo invitare a inviarci taggando panorana basket sulla foto così noi la vediamo e la diffonderemo come abbiamo fatto con una esattamente abbiamo già fatto una foto abbiamo già presentato una foto che dovreste già vedere nei nostri social nella nostra pagina Instagram e riguarda i tifosi di Ravenna vero? eh sì esatto la foto scattata da Lorenzo Bandini al Palagalassi con le sue sorelle dei Leoni Bizantini in bella mossa con la bandiera Estone perché insomma era anche il derby Estone mancava Jurkat ma c'erano Trajer c'erano Caspar Kitzing insomma tanta Estonia nel derby romagnolo ebbene bravo Lorenzo fate come lui inviateci la foto taggate Panorama Basket e poi tante sorprese per voi eh sì aspettiamo tante foto mi raccomando perfetto grazie Franceschi ti rimando velocemente a posto ma perché tra poco mi dovrei leggere anche qualche altro messaggio dei tifosi prima di fare un giochino con coach e cancellieri anzi subito dai un paio di riflessioni dal pubblico a casa allora per cancellieri cosa ne pensa delle squadre di A2 che giocano di sistema con americani normali ma senza il Logan del momento le adoro le parole beh tanti diciamo nella mia palacanestro ideale mi piacerebbe che ci fosse sempre condivisione sono un po' diventato vecchia maniera ai miei esordi non ero così nel senso le prime squadre che ho allenato per esempio Montecatini da esordiente di Boone Nicolai esatto Boone Nicolai e tanti altri scorer le partite erano 100 punti noi ecco difensivamente lì e anche a livello di qualità di ball sharing non eravamo proprio i migliori però chi tirava spesso faceva canestro ed era una palestra molto divertente però negli anni e mi ha segnato anche soprattutto quando ho cominciato a allenare in A1 ho cominciato a preferire adesso per me è determinante primo l'aspetto difensivo e poi il fatto che tutti possano toccare la palla ad essere protagonisti quindi in base a questa domanda rispondo sono assolutamente favorevole e anzi apprezzo coloro che lo fanno senza nulla togliere ovviamente agli altri apprezzo come piacere personale non è è solo un'opinione Francesco un'altra domanda sì una domanda che oltretutto Enrico introduce quello che noi vogliamo fare con il nostro coach complimenti a coach cancellieri al tecnico di Thomas francamente non ci credevo più ma l'atteggiamento del tecnico è quello giusto bello caliente ma poi hai imparato a giocare a mahjong? fermo sta buono non rispondere vero Francesca? eh no perché questo rispondere vedremo più avanti allora il programma è iniziare la lanciamo giustamente come hai detto te questa domanda ci dai là per questa nostra nuova rubrichetta che ci accompagna quest'anno crediamo sia un modo simpatico di interloquire con i nostri ospiti pronti con InstaFive è la eh insomma se avessimo i fly sui te li facevamo registrare InstaFive all right va bene comunque detto questo cos'è InstaFive è in questo caso per Massimo cancellieri cinque foto dietro le quali si nasconde una o più domande che ti rivolgeremo tu non sai l'ordine in cui abbiamo messo queste foto alcune diciamo di queste foto sono assolutamente una sorpresa per te quindi tu devi dirci numero da 1 a 5 e noi ti faremo una domanda relativa 3 foto numero 3 allora regia mostraci qual è la foto numero 3 e partiamo dunque con oh allora che cosa ci può indicare questa foto io sono sicura che a noi romagnoli piaccia una determinata cucina noi siamo amanti delle grigliate siamo amanti della piedina con la salsiccia e sicuramente questo non è proprio l'invito migliore da fare a coach e cancellieri se lo portate a pranzo o a cena questo perché sappiamo che coach è vegetariano vero? partiamo subito potete evitare la tre perché è il mio numero preferito però questo non vuol dire che non gli piaccia uscire con gli amici andare a bere un buon bicchiere di vino o un buon bicchiere di birra vero? no assolutamente sono molto conviviale il mio rapporto col cibo è un rapporto strano l'essere vegetariale non riguarda assolutamente l'etica ma riguarda semplicemente un rapporto non importante nei confronti del cibo cioè non ne sono dipendente non mi piace di più essere andare a cena con gli altri e bere un buon bicchiere di vino o una birra cosa che chi mi frequenta sa benissimo e quindi tutto il resto è molti si preoccupano quando invitano a cena di cosa cucinare invece io andrei bene con un piatto di pasta è un buonissimo vino piuttosto che un buonissimo piatto di pasta condito è un vino scadente tipo vino? vero? quale? ce lo consigli? che tipo di vino? ho assaggiato un San Giovese di riserva non dico la cantina però ovviamente l'altro giorno è buonissimo quindi rosso in assoluto e ho assaggiato anche i vini romagnoli che sono veramente buoni e non li conoscevo quindi dieci più a San Giovese quindi se noi vogliamo invitare o a pranzo o a cena coach cancellieri a party San Giovese Rossi che tipo di ricette potremmo utilizzare per stregarti? dici tre ricette veloci che non possono mancare una facciamo una basta una sono in grande difficoltà sulle tre sull'una io sono diventato pazzo per la piadina quindi se riempite le piadine di qualsiasi cosa vegetale trovate la piadine è una cosa che ho cominciato a mangiare quasi quotidianamente e non prima non lo facevo quasi non la mangiavo non era invece qui a Ravenna ho scoperto in qualsiasi posto delle piadinerie ho provato quasi tutte ormai tutte grandi grande qualità e veramente buona benissimo da sul sicuro da questo punto di vista sono d'accordo con coach cancellieri ancora altro numero altro giro altro regalo sei eh no vai partiamo dal 2 partiamo dal 2 foto numero 2 regia cosa ci mostri? ecco eccolo ok e con questa torniamo sulla domanda che ci è arrivata perché questa è un'immagine che arriva dal set fotografico della campagna abbonamenti di Ravenna che ritrae Massimo Canseglieri che gioca a Magionghi in riva al mare quindi per primo io ti devo assolutamente chiedere sai veramente giocarci? sai che è una domanda tra bocchetto? no no non è tra bocchetto è pura curiosità no ovviamente no quando mi hanno presentato spero si chiamino pedine non so cosa ho veramente fatto fatica mi hanno spiegato più o meno com'è che si gioca onestamente un mix fra scala 40 e qualche altro gioco non ho assolutamente idea spero che davanti a due bicchieri di San Giovese qualcuno me lo insegni benissimo molto bene quindi a parte il Magionghi che dobbiamo ancora imparare quando non si gioca a basket so che hai delle passioni e fra queste è il cinema c'è il cinema e c'è la letteratura quindi ti chiedo quali sono i generi di film e di libri che ti piace leggere? sui film non ti rispondo molto onesto da quando ho cominciato a allenare praticamente mentre nel periodo universitario ero un assiduo frequentatore di cinema quindi si parla già non c'erano i telefonini ora faccio veramente molta fatica quindi sul cinema forse vi sentisse Pianigiani che invece un esperto mi massacrerebbe quindi eviterei di parlare di cinema di letteratura sono sempre molto ben consigliato dal mio fraterno amico nonché preparatore atletico di Milano che è giustito danesi e che ogni giorno mi delizia ma la letteratura americana soprattutto è la letteratura che mi piace di più senza nulla togliere l'italiano però si parla di genere sono tradotti ecco lo leggo in italiano poi mi hanno detto che noi abbiamo tanti informatori si troppi ti oserei dire dovrai scandagliare tutta la società per scoprire da dove prendiamo le notizie detto questo non solo non solo so che ami molto la vita all'aria aperta ti piace passeggiare col tuo cane insomma parliamo un po' di vita all'aria aperta anche di oggi di vacanza lo scocchiaraggio importante vai c'è un drone che ti stegui non sapevo eh che fosse qui siamo 007 Pasini poi abbiamo si chiama Francesca Piccari Piccari Francesca Piccari vai la passione del cane è nata ce l'avevo sempre per gli animali è nata a Montecatini il mio primo cane l'ho preso lì al canile è stato con me per 13 anni poi ora è un altro sempre preso al canile di Milano con il quale le passeggiate col cane sono le passeggiate della riflessione ecco quello mi piace farlo soprattutto la sera la mattina lo faccio per necessità sua la sera lo faccio per necessità di entrambe cioè passeggio rifletto mi rilasso ascolto della musica sento qualche amico semplicemente decomprimo la giornata e penso a cosa si possa fare il giorno dopo è molto utile per me ho poi scoperto un'altra cosa mi devi confermare o meno io ho allenamento devo andare via se non abbiamo messo una notturna io ti chiederei è vero che se non avessi fatto l'allenatore sarebbe piaciuto ti sarebbe piaciuto essere insegnante di lettere e filosofia no io al di là di chi ha dato queste notizie dovrà pagare un prezzo sì comunque sì io ero quando io ho studiato a Roma ho fatto lettere classiche e contemporaneamente allenavo una scuola di prima divisione e poi sono entrato nella femminile a fare terzo secondo e poi primo allenatore però le due vite scusami Massimo intanto la regia chiedo alla regia mentre rispondi a questa domanda e farvi vedere una slide che hai preparato proprio sulla tua carriera che inizia proprio da quando tu allenavi nel basket femminile a Roma scusami scusami avete veramente superato ogni aspettativa lì le vite scorrevano parallele ora nel momento in cui poi c'è stata da prendere una decisione ho seguito secondo me molto l'istinto cosa davvero mi trasportasse in quel momento però era tutto apparecchiato per fare tutto altro lavoro di sicuro anche quando alleno molti mi contestano il fatto che ho atteggiamento spesso professorale sarà perché comunque mi manca quella parte o quella che avrei voluto fare però in realtà l'informazione è corretta io sono figlio di un insegnante di rete quindi siamo abbastanza simili da questo punto di vista adesso ti faccio scelere una terza foto e poi ti faccio prendere una pausa però dopo mi scegli anche le altre due scappo dai la terza foto ti mancano la 1 la 4 la 5 5 la 5 allora qui arrivi su un altro mio terreno questa è un'immagine un po' casuale che abbiamo preso però è un'altra tua grande passione questa locandina ci riporta la musica alla musica di cui sappiamo benissimo tu sei un appassionato come il sottoscritto di indie rock anni 80 allora adesso mi dovresti dire diciamo quali sono non tanto i tuoi gruppi preferiti e tutto associa un album un gruppo di quel genere musicale che tu ami a un momento particolare o della tua giornata o tipo qual è la canzone che consiglieresti dopo il derby vinto a Forlì insomma associami due o tre di queste gruppi canzoni a un momento della tua giornata questo è difficilissimo e non sapevo che forse avrei dato forfè sulla puntata se avessi saputo tutto ciò però ora mi ci trovo e quindi giochiamo in ballo balliamo giochiamo non ho delle associazioni particolari nel senso che al di là è stata una delle mie passioni lo è tuttora la seguo costantemente quindi mi aggiorno ogni giorno leggo e ascolto sempre nuova musica per cui diciamo che un po' quella è stata la passione della mia prima parte adesso sono orientato su tanti altri generi e ti dico che spesso la prendo non come una professione ma come un hobby a cui dedico del tempo per cui spesso faccio delle rece piuttosto che dire il mio prezzo preferito prima di una partita o dopo una partita o che raffiguri un momento o un'immagine è piuttosto ascoltare tutto l'album anche uno nuovo cercare di capire cosa c'è dietro farmi una recensione che poi ovviamente rimane io non sono un uomo social quindi non scrivo non sono dimmi qual è allora l'album seminale della tua vita l'album che beh tutti gli album dei Pavement se qualcuno mai li conoscesse a parte te li conoscesse ma siamo coetanei quindi ci sta li conosciamo perfetto facciamo prendere una pausa perché altrimenti scappa il giacchetto lo devi tenere fermo legato assolutamente perché non approfitti per andare via Francesca dove andiamo adesso? andiamo a viaggiare un po' con i nostri amici di Basketball Stars Camp e con Viaggi Fortuna imparare la palla canestro dai suoi maestri ora si può a luglio Basketball Stars Camp porta tutti i cestisti romagnoli dai 12 ai 18 anni a scuola negli Stati Uniti e in Spagna prenota subito e a coste accessibili il tuo viaggio unendo basket e turismo alla scoperta di New York e Philadelphia o della Spagna due viaggi distinti ma allo stesso scopo visitare le metropoli e i loro grandi college giocare sui playground più famosi al mondo allenarti al Sixers Camp dei Philadelphia 76ers al Nike Camp nel New Jersey o a un nuovo camp nella penisola iberica uno staff di tecnici qualificati ti accompagnerà dall'Italia e assieme ai migliori allenatori americani e spagnoli ti aiuterà ad affinare le tue doti tecniche vivi un'esperienza indimenticabile scopri tariffe e programma su StarsCamp4Li.it e contatta Richard Lelli agli indirizzi in sovrimpressione da oltre 40 anni Viaggi Fortuna ti accompagna alla scoperta del mondo per pianificare trasferte di lavoro e vacanze da sogno affidati a un team di 14 professionisti e vieni a trovarci a Forlì in Corso Garibaldi 42 e in via Edison 1 Oggi Viaggi Fortuna consiglia una settimana da sogno con Svon Tour nello splendido Blue Reef Resort a Marsalam nel Mar Rosso sulla splendida Baia di Chagara con la meravigliosa spiaggia lambita da acque cristalline di fronte a uno dei tratti più belli della barriera corallina ti potrai rilassare in un villaggio gioiello a gestione italiana ottima cucina nostrana con pasta corner e un team di animazione che organizza tutti i giorni attività ricreative ed intrattenimenti anche per i più piccoli con le offerte e i pacchetti vacanze Swon Tour prenotando entro l'8 novembre con Viaggi Fortuna potrai usufruire di un'offerta promozionale dedicata a te Mentre mi sono dovuto frapporre tra Coz Cancellieri la via d'uscita dal nostro studio ma scherzo Francesca ritorniamo continuiamo con la pausa del Coz dai due domande da voi telespettatori poi ritorniamo ecco il nostro terzo grado c'è una considerazione di Moreno peccato per domenica quando abbiamo cominciato a difendere forte abbiamo mandato Ravenna in bambola poi bravi loro a crederci sin in fondo anche se non ho mai visto Sergio segnare così tanto da fuori mi aspettavo qualcosa in più da bruttini onestamente ma credo abbia tempo per rifarsi una sconfitta capita non demoralizziamoci subito pensiero rivolto soprattutto ai tifosi forlivesi ecco su questo qui ovviamente sono assolutamente d'accordo con Moreno se non sbaglio vero Francesca perfetto soprattutto su questa parte finale ti chiedo Jacopo a questo punto sabato Orsi Nuovi partita comunque importante dovete e volete dare un messaggio no vogliamo andare là a prenderci la vittoria appunto quindi portiamoci dietro la rabbia la rabbia del derby perso la consapevolezza che abbiamo fatto per 25 minuti molto 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 bene che abbiamo smesso di giocare gli ultimi 5 minuti veramente non dico regalando la partita però ci abbiamo messo del nostro e quindi con tutta questa rabbia una settimana di lavoro intenso al completo dove tutti ci portiamo dentro tutto questo dentro arrivare poi sabato e cercare di fare la miglior partita possibile in assoluto rispettandoli però senza aver paura assolutamente una squadra che sarà giovane arrembante anche gli americani se non sbaglio sono uno almeno rookie sono tutti e due adesso la cambiate i coach salieri detto questo Francesco un'altra domanda buonasera ma nell'unieuro esiste qualche schema per liberare i tiratori oppure devono forzare sempre ogni tiro ciao da Stefano da Florlì credo di sì che gli schemi ci siano per forza adesso sorrido Stefano però obiettivamente quello che ha sempre detto Jacopo fino adesso insomma fin tanto che questa squadra riesce ad essere un sistema c'è coinvolgimento si passa la palla tutti la toccono e muovono la difesa poi alla fine scaturiscono buoni tiri se poi dopo permettimi Jacopo un po' il paragone si affrontano le difese come una riete che a testate deve sbattere giù un portone beh dopo le cose diventano più difficili no? Sì proprio di squadra non abbiamo questa caratteristica non abbiamo non abbiamo il singolo che palla a lui ci pensa a lui cioè proprio di sistema siamo una squadra dove dobbiamo tutti toccare la palla tutti lavorare insieme passarci la palla e poi a quel punto troviamo troviamo sempre un tiro aperto e tutti hanno le capacità tecniche di metterla quindi come abbiamo dimostrato alla fine per gran parte del precampionato non ci dobbiamo inventare niente assolutamente io faccio invece una domanda a Giovanni Giovanni insomma parliamo della partita con centro rapidamente l'abbiamo detto partita sentita partita che vi vede affrontare una delle grandi favorite di questo campionato squadra obiettivamente che per la serie B è davvero io l'ho vista anche giocare in amichevole con Forlì per mettere quasi mostruose insomma come si gioca questa gara sicuramente è la prima di tante sfide con squadre di altissimo livello che ci vedrà protagonisti infatti abbiamo domenica cento poi mercoledì andiamo a Chieti esatto perché c'è l'infrasetemanale ricordiamo e quindi l'approccio dovrà essere quello che appunto di una squadra che non deve avere timore referenziale deve comunque giocare una partita a viso aperto per cercare di portare a casa la vittoria e più che altro far tesoro degli errori di Montegranaro in difesa più che altro e magari portare avanti queste idee offensive che ci hanno permesso di segnare 96 punti lacrime sudore sangue diceva Friso insomma e questa è un po' la lezione sudore sangue sì no no ma quello sai noi dal 18 agosto che lavoriamo e l'abbiamo sempre messo in pratica sicuramente una partita come quella di domenica può far alterare quelle che sono le sensazioni del coach e quindi giustamente siamo stati ripresi e giustamente metteremo in campo come abbiamo sempre fatto il massimo impegno e la la convinzione di poter portare a casa il risultato benissimo perfetto allora Francesca andiamo verso la fine di questa puntata ma ancora con cancellieri dobbiamo togliersi qualche curiosità soprattutto cioè se noi coach siamo dei segugi degli Sherlock Holmes attravestiti a casa sono più perfidi di noi sono eccezionali perché ci è arrivata una foto quella che abbiamo richiesto prima quindi chiedo alla regia se ha modo di mostrarla eccola qua è per te immortalato con la sedia beh quella famosa sedia non è mondonico ricordo mondonico che la ghermiva detto questo allora devi scegliere ancora la 1 o la 4 4 la 4 allora foto 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 Francesca cosa si vediamo eccola questa foto qui è un po' un simbolo della tua lunga esperienza professionale e di vita all'Olimpia Milano per cui tra le tante cose che ci potrebbero essere da chiedere io ti chiedo quella che secondo me è un po' la più importante ovvero fra tutti i titoli vinti qual è stato quello più significativo e perché al 100% rispondo il primo perché quando siamo arrivati peraltro io in maniera anche rocambolesca lo ammetto perché ero il decusen il predestinato ecco erano una serie di nomi e per una serie di motivi ho avuto una grande fortuna e sono arrivato lì anche molto tardi rispetto alle firme di tutti gli altri e lo scudetto mancava da 18 anni a Milano è stata una cavarcata clamorosa dove fino a febbraio le cose non sono andate bene non eravamo primi in classifica non abbiamo vinto in casa la Coppa Italia uscendo la prima partita con Sassari in casa in Eurolega abbiamo conquistato i quarti di finale ma siamo usciti in maniera rocambolesca siamo arrivati pieni di pressione ai playoff le partite sono state praticamente tutte vinte quasi tutte alla gara 7 ed erano con Pistoia ricordo una gara 5 con Gentile squalificato in casa con una pressione clamorosa vinta con Sassari una buona prova e poi la finale con Siena il tiro di Gerrers e l'esplosione di gioia di gara 7 dopo essere stati tre quarti sotto praticamente è inimitabile è il palazzetto che conteneva più gente di quanto ne potesse contenere tant'è che c'è una foto dove c'è pieno il parquet e pieni gli spalti e ancora la gente si spiega come potesse essere possibile Massimo ti devo chiedere questo pro flash ma perché Milano nel basket a livello italiano non è riuscito ad essere tra virgolette la Juventus della palacanestro ma come lo è ecco non fanno il numero dei titoli a parte che in questi anni nel senso il vento si era dominato 8 9 perché è un processo dove anche Jacopo ha partecipato da giocatore un processo di crescita che è nato quando il gruppo Armani ha rilevato la società e ha cominciato a mettere per tanti anni tassello dopo tassello tutte le cose a posto non è un processo semplice è capitata all'inizio con il predovinio di Siena che invece era già una società consolidata rispetto a Milano e quindi si spiega anche certe volte degli errori di inesperienza per arrivare poi a quello che è adesso insomma quindi ti dico un processo lento ma costante che ha portato a essere Milano la prima realtà anche se non vince lo scudetto lo dico un po' di parte perché c'ero assolutamente dicevamo poi che la tua esperienza la tua carriera è iniziata a Roma per tanti anni ed è proseguita poi a Milano per altri tanti anni quindi se vogliamo due grandi città due grandi metropoli per poi arrivare a Ravenna che è una piccola città una realtà molto più piccola quali sono le cose che apprezzi o disprezzi delle grandi città e delle piccole città quali differenze hai notato poi ho lavorato vengo da una piccola città più piccola di Ravenna dove ci ho vissuto per tanto tempo che è Teramo ho lavorato in altri piccoli centri per esempio Biella Veroli Montecatini quindi le differenze ci sono io mi adatto molto mi piace il caos delle grandi città in generale quello che mi piaceva di Roma da piccolo provinciale Terramano era che a qualsiasi ora al giorno della notte c'era sempre caos c'era sempre un'ambulanza c'era sempre una macchina che strombazzava c'era sempre qualcuno che urlava e pian piano quello è diventato l'anenia che accompagnava anche le notti e quindi da lì quella è una cosa che non mi infastidisce anzi mi piace ma quando sono arrivato qua mi sono reso conto di a parte lo stile di vita che onestamente è molto per me importante perché è una città che ha calore ed è una città anche molto pacata calma dove le cose vanno con il vero senso della vita e la giusta velocità e questo mi ha aiutato non pensavo ma a Milano avendo accumulato tantissimi anni di frenesia questo è proprio il momento giusto anche per avere per avere empatia con una città del genere poi inizialmente Ravenna si presta ad essere empatia siamo veramente in chiusura ricordiamo Francesca che tutte le domande a cui non abbiamo dato risposta in diretta avranno risposta dopo nel nostro quarto quarto che si vedrà su Facebook dopo che noi l'avremo registrato qui con i nostri ospiti hai l'ultima foto da vedere te la faccio vedere io la foto numero uno ecco qui la vediamo sui nostri teleschermi ti faccio una domanda deve essere veramente rapidissimo chiediamo scusa Luciano Poggi con cui ovviamente come sempre mi dispiace però per questo davvero sono sincero sforiamo qui ci sei tu in compagnia di Kai Heinz che è mister Eurolega lo chiamiamo così avendone vinte quattro e che tu hai allenato a Veroli in un anno straordinario tra il finale nel senso hai vinto la Coppa Italia con Heinz hai fatto la finale promozione per andare in Serie A ti chiedo Heinz è nella tua top five visto che parliamo di insta five di giocatori più forti che allenati e qual è questa top five allora Heinz è il giocatore in assoluto più duro sia come tipo di gioco che mentalmente abbia mai conosciuto è quello più in assoluto più smart di tutti è stato preso il merito di averlo portato in Italia di Andrea Trinchieri che l'ha preso il primo anno là io l'ho trovato e l'ho confermato ovviamente senza avere alcun dubbio e mi ricordo che lui con le tantissime richieste che aveva da altre squadre già di A1 e di Euro Cup non volle andare per farlo perché diceva la mia carriera passa attraverso delle tappe e queste sono importanti e lui onestamente è strepitoso sotto tutti i punti di vista altri non ne metto perché fra Milano e Biello ha allenato veramente tanti giocatori quindi sarebbe assolutamente assolutamente sì però insomma è bello quando aver fatto vedere proprio anche in chiusura della nostra trasmissione questa foto con un giocatore che è cresciuto in Europa in piazze di provincia come Veroli e appunto è arrivato a questi massimi livelli tutto molto bello Francesca raggiungimi qui dai raggiungimi qui perché dobbiamo andare a salutare i nostri ospiti che ci hanno ottenuto compagnia qui in diretta televisiva su Teleromagna anche questo martedì sera allora lascio salutare a te tutti eh sì noi ringraziamo tantissimo Massimo Cancellieri grazie a voi di cuore grazie grazie a Jacopo Giacchetti grazie a voi grazie a Giovanni Bruni grazie a voi grazie a te Enrico grazie doppiamente a te Francesca che nonostante fossi leggermente afona hai retto clamorosamente anche questa puntata ce l'abbiamo fatta grazie di cuore grazie a tutti voi l'appuntamento è per martedì prossimo buona serata e poi urlare è un panorama il panorama è un panorama basket che ancora non si comanda è vero neanche alle emozioni io la scelta l'ho già fatta e sono già fuori ad attuarla è un panorama il panorama è un panorama basket è un panorama basket è un panorama basket è un panorama basket ho 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 Grazie a tutti.